Si sta per andare agli ordini dello starter Deve entrare Paso e Scabroso Partite Fasi iniziali, Calcio Balilla, Fast News L'esterno Martina Gray Big Valentino Galoppano Calcio Balilla e Fast News Uno accanto all'altro, Martina Gray in terza corsia Precede Big Valentino, Gemma Dell'Olmo e Paso e Scabroso Senza grandissima andatura nella prima parte di gara Perché Calcio Balilla può graduare e Fast News si limita soltanto ad accompagnarlo Martina Gray si è besa nella scia di Fast News Mentre Big Valentino è nella scia di Calcio Balilla In coda Paso e Scabroso con alla sella Gemma Dell'Olmo Andatura regolare sotto la pioggia al visarno Quando si sta per entrare in dirittura Calcio Balilla e Fast News Precedono Big Valentino e Martina Gray, Gemma Dell'Olmo e Paso e Scabroso Addirittura Calcio Balilla lunga in seguito da Fast News che fa fatica nella frazione All'interno Big Valentino con all'esterno Martina in coda Gemma Dell'Olmo e Paso e Scabroso Scappa Calcio Balilla da Big Valentino flat e Fast News all'esterno Martina Gray in coda e recupera all'interno Paso e Scabroso Calcio Balilla è scappato da Big Valentino, da Martina Gray e da Paso e Scabroso Le immagini che vanno a stringere su Calcio Balilla che a 200 metri dal palo è nettamente avanti a Big Valentino Che se la gioca con Martina Gray Dispersione Calcio Balilla su Martina Gray e Big Valentino 3-6-2 l'ordine d'arrivo della seconda corsa del visarno Da un capo all'altro Mario Sanna per il team di Giuseppe Zed Riccardo Barontini sul terreno che sta diventando a mano a mano leggermente Pesante Per il momento è tutto Da Firenze la linea a Roma